Il prefetto non so che cosa scriverà, presumo che farà un provvedimento con cui annullerà il provvedimento fatto dal dirigente dell'anagrafe del comune di Napoli, quindi prima di commentarlo lo vorrei leggere, posso anticipare sicuramente perché ne abbiamo discusso con l'avvocatura, con il dirigente che fece l'atto, con tutta la giunta e la struttura che noi faremo ricorso all'autorità giudiziaria, è chiaro, tutto questo si fa perché il legislatore non ha il coraggio e la voglia di legiferare sui diritti, qua si attende una legge sullo giusto soli, si attende una legge sui matrimoni tra persone allo stesso sesso, io trovo gravissimo che questo bambino, se noi non fossimo intervenuti, questo bambino non aveva libertà di circolazione nell'Europa civile, non aveva possibilità di avere un'assistenza sanitaria, tutto questo sembra che nessuno se ne importa e invece ancora una volta prevale una forma di diritto oscurantista, pervicace, opprimente, invece io credo che il diritto debba aiutare i processi di liberazione, di riconoscimento di diritti a chi i diritti non ha, come quel bambino, il bambino è nato, è nato da un fatto d'amore e per un fatto un po' di bigottismo e un po' di pressapochismo, un po' di legalitarismo incostituzionale, non gli si voleva riconoscere diritti, noi l'abbiamo fatto, abbiamo fatto un'interpretazione sicuramente originale, sicuramente costituzionalmente orientata, abbiamo colmato una lacuna, ma abbiamo secondo me la coscienza a posto di aver fatto un atto giusto e quindi in attesa della legge vediamo che cosa diranno i magistrati.